Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia, bentornati alla nostra Ucronia, al nostro mondo di Orbis in cui proviamo ad immaginare che cosa sarebbe potuto succedere se l'impero romano fosse sopravvissuto. Una storia che è iniziata nel 476 d.C., quando Giulio Nepote tornò sul trono di Roma invece che finire i suoi giorni in Dalmazia e che ci ha accompagnato fino al 1940, quando è ambientata questa puntata. In realtà nel 1940 sarà ambientata sia questa puntata che la prossima. Lo so, avevo ridotto il tempo per cercare di evitare di fare puntate separate, ma in effetti questo 1940 ha tantissimo da raccontare e dato che non potevo dividerlo in sei mesi in sei mesi perché come vedrete gli avvenimenti sono quasi contemporanei ho deciso, solo per questo caso, si spera di dividere in due puntate. Vedrete che ci sarà parecchio da dire. Quindi, bando alle ciance. Come al solito tre cose. Innanzitutto, se volete scoprire il mondo di Orbi, se potete farlo o con la playlist che trovate in descrizione oppure nella wiki che trovate anche quella in descrizione, su cui si trovano sia tutto quello che è successo fino ad oggi ma soprattutto tanti approfondimenti, dati in più, eccetera. E come sempre ringrazio i ragazzi della wiki che la curano e che curano le cartine che vedrete durante il video. La seconda cosa, se non volete perdervi le prossime puntate, iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella per essere sempre aggiornati quando esce un nuovo video, sigla di Orbis e andiamo a raccontare questo 1940. Approfitto di questa divisione anche per spiegare alcune cose. In questa puntata vorrei parlare anche un attimino del movimento panlatino, anche perché in questa puntata di oggi ci concentreremo sull'Europa, sull'Africa e nella prossima parleremo dell'Asia e delle Americhe, di Nuova Terra. Non perché queste due cose non siano correlate, ma per cercare di dividere un po' gli avvenimenti. Attenzione che alcune cose torneranno, si incasterranno in una e nell'altra. Ad ogni modo, volevo prima fare un piccolo inciso sul movimento panlatino perché mi rendo conto dai commenti che alcune cose forse non sono state ben comprese. Il movimento panlatino, il movimento di Gabriele D'Annunzio, nato all'interno della Repubblica, di vaghissima ispirazione crocista, diciamo più che altro di vaga ispirazione nazionalista, che propugnava l'unione tra tutti i popoli di Sir Pelatina, quindi grossomodo quelli che attualmente vivono all'interno della Repubblica, dell'Impero e della Confederazione. Se quel movimento fosse riuscito a ottenere la maggioranza della Repubblica, forse in qualche modo la storia avrebbe potuto essere diversa. Ma quando D'Annunzio si è spostato all'interno dell'Impero, quindi a Nuova Terra, qui sostanzialmente, nonostante le richieste di alcuni, è molto difficile, se non impossibile, che potesse ottenere un seguito. Perché? Perché il movimento panlatino all'interno della Repubblica aveva un senso, ma all'interno dell'Impero quel senso non ce l'ha, perché l'Impero già di suo vuole riunire tutte le genti che è di stirpe latina, ma lo vuole riunire non con un accordo, ma semplicemente sotto il suo scettro. Quindi, oltre a non essere una così grande novità, a tutti gli effetti è avversato da tutti i movimenti politici all'interno dell'Impero, perché chi segue l'ideale imperiale di unione, ovviamente non vuole un'unione alla pari, ma vuole un'unione sotto il potere dell'Imperatore, e guarda abbastanza storto quest'uomo che cerca un accordo alla pari. Dall'altra parte, chi, e ce ne sono all'interno dell'Impero, quest'unione non ci pensa proprio, e vorrebbe che l'Impero si concentrasse sulle sue terre attuali, che sono già abbastanza ricche e potenti, vede nel movimento panlatino un accordo appunto con l'Imperatore, e questo gli fece perdere ovviamente molto, molto consenso. Tanto che, come abbiamo visto nella scorsa puntata, a molti di coloro che lo avevano appoggiato, avevano proseguito le loro idee andando a combattere all'interno della guerra civile della Confederazione. Ma di questo, come detto, ne parleremo nella prossima puntata insieme al resto di Nuova Terra. Partiamo però dall'Europa, perché sull'Europa c'è tanto da dire, anche perché il 1940 è un anno fondamentale per l'Europa e per la Longobardia. Se vi ricordate, pochi anni fa si sarebbe dovuto ottenere il referendum, che era stato deciso durante la pace che aveva posto fine alla Magna Guerra, che avrebbe dovuto portare il popolo della Burgundia, vedete questo piccolo stato incastonato tra la Repubblica, la Longobardia e la Normandia, un piccolo stato che avrebbe dovuto decidere quale fosse, sarebbe stato il suo futuro. Teoricamente la Burgundia faceva parte degli stati Longobardi, ma data appunto la fine della Magna Guerra, si era deciso di mantenerlo nell'orbita della Repubblica, un'orbita da cui la Burgundia sarebbe potuta uscire solo in caso di un referendum che avrebbe portato appunto alla sua riunificazione alla Longobardia. Questo referendum, che inizialmente sarebbe stato previsto per il 1937-1938, in seguito agli accordi che avevano portato alla fusione tra la Baviera e la Longobardia, era stato rimandato fino al 1940. Ma ormai nel 1940 è impossibile rimandarlo ancora, anche perché il capo, il primo ministro della Longobardia, cioè Hermann Göring, già da tempo faceva una forte campagna politica proprio sul fatto che, ben presto, anche la Burgundia sarebbe stata riunita alla Longobardia. Ovviamente quando si arrivò al momento del referendum, nel marzo aprile del 1940, la situazione iniziò a farsi abbastanza ceta, anche perché la Repubblica aveva negli ultimi anni fatto grossi investimenti di stampo economico e ovviamente di propaganda, e anche sotto un certo punto di vista stimolato il trasferimento di popolazione per cercare di cambiare la situazione al momento del referendum. Anche se in realtà la maggior parte dei giornalisti europei erano abbastanza concordi nel pensare che il referendum alla fine avrebbe comunque premiato il distacco della Burgundia dall'orbita repubblicana e il ritorno all'interno della Longobardia. A sorpresa però, il 28 marzo del 1940, il referendum, quando si giunse allo spoglio, vide un leggero vantaggio da parte di coloro che volevano continuare a mantenere la Burgundia autonoma, e quindi all'interno dell'alveo repubblicano. Un vantaggio non molto ampio, 52% per il no al referendum, il referendum chiedeva se si voleva unirsi alla Longobardia contro un 48% per il sì, un vantaggio non molto ampio che però sembrava appunto ribaltare quelli che erano i sondaggi prevoto, che davano invece un vantaggio di circa una decina di punti, si diceva 55-45, proprio al sì. Una volta che il referendum venne diffuso, la Longobardia iniziò a gridare apertamente al fatto che ci fossero stati dei brogli, che il voto fosse stato controllato, che la Repubblica avesse impedito da alcune popolazioni longobarde di votare, e al contrario avesse fatto votare persone che provenivano dalla Repubblica e che vivevano in Longobardia da troppo poco tempo, erano state fatte ovviamente delle regole su questo. Insomma, si iniziò ad arrivare a un vero e proprio scontro diplomatico. Scontro diplomatico che andò peggiorando quando all'interno della stessa Burgundia, soprattutto nelle città di confine con la Longobardia, ci furono degli scontri, piccoli movimenti di rivolta che portarono a scontri con la polizia, con cui ci scapparono anche due morti. Ovviamente la situazione iniziò ben presto a farsi accesa, anche perché Goering il 12 aprile del 1940 pronunciò un infuocatissimo discorso dicendo che non avrebbe mai permesso a dei longobardi di veder calpestato la loro autonomia, di veder calpestata la loro volontà di riunirsi al grande regno di Longobardia. La situazione ovviamente spinse il governo Bonomi della Repubblica ad ordinare una piccola mobilitazione. Vennero mandate nelle truppe in Burgundia, truppe che ovviamente con l'accordo del governo Burgundo si disposero a proteggere il piccolo Stato da un'eventuale invasione della Longobardia. L'invio delle truppe però venne visto dai longobardi come un'ulteriore minaccia, tanto che lo stesso Goering, d'accordo con i sovrani che componevano ovviamente la Confederazione Longobarda, decise a sua volta per l'invio di truppe al confine e si disse pronto ad entrare nel territorio della Burgundia per far rispettare la volontà delle città di confine. A questo punto, nel tentativo di spegnere questo fuoco che sembrava star ardendo al centro dell'Europa, ancora una volta a cercare la mediazione fu la tripice monarchia. Lo sapete, la tripice monarchia guidata dal sovrano Rodolfo ma soprattutto guidata dal suo cancelliere Rommel che a tutti gli effetti detiene il potere dalla fine della magna guerra, già una volta, all'epoca in cui era stata appunto l'unione tra Baviera e Longobardia, era intervenuta per cercare di evitare una pace, una guerra, chiedo scusa, una guerra che la tripice monarchia sicuramente in questo momento non desiderava particolarmente, che, dopo tutto, era legata alla Longobardia da un accordo militare, il cosiddetto asse di Monaco, il patto di Monaco, e un accordo militare ovviamente l'avrebbe rischiato di portare in guerra con la Repubblica. Fu proprio Rommel quindi a propugnare un nuovo incontro. L'incontro però, a cui parteciparono le principali potenze del continente ad esclusione di quelle comuniste, che ancora una volta saranno escluse da qualunque decisione, l'incontro però non andò come ci si poteva aspettare. Rommel in effetti, d'accordo con Goering, aveva creato, un po' apparecchiato, un accordo che si pensava di poter raggiungere. L'idea era sostanzialmente quello di convincere le grandi potenze europee che morire per la Burgundia, rischiare di scatenare una nuova guerra per la Burgundia, non fosse di loro interesse. Ma Bonomi, che temeva che, cedendo anche la Burgundia, si sarebbe semplicemente continuato a lasciare sempre più spandere la Longobardia, fin dall'inizio dell'incontro fu assolutamente irremovibile sul fatto che non avrebbe mollato un centimetro. Bonomi portò, ovviamente come prove, tutti i vari risultati delle votazioni, risultati a cui la Longobardia rispose, portando invece della documentazione, soprattutto ovviamente delle interviste che erano state fatte, delle lettere autografe di alcuni maggiorenti politici, della Burgundia, i quali a loro volta invece segnalavano coercizione, segnalavano violenze, segnalavano la difficoltà di raggiungere il voto. A questo punto, a questo punto, Rommel era convinto di poter creare un certo fronte. La Longobardia ovviamente appoggiava la sua visione, lui stesso lo faceva, i russi si erano accodati, e la Svezia sembrava quasi sul punto di essere convinta. A sorpresa però, dopo cinque giorni dall'inizio della conferenza, un altro Stato si schierò apertamente con la Repubblica, e quello Stato era l'Olanda, erano le Provincie Unite. Fino a quel momento le Provincie Unite avevano mantenuto un certo equilibrio tra le due fazioni, ma dopo cinque giorni si schierarono apertamente con la Repubblica, chiesero di riconoscere ufficialmente un irreferendum, dissero che coloro che erano stati inviati dalle Provincie Unite per osservare il referendum avevano confermato che il referendum era stato tenuto nella maniera più legale possibile, e su questo, ve lo dico io, qualche dubbio in effetti ci sarebbe, e ancora, e la Provincia Unite si schierarono apertamente con la Repubblica. Il risultato, dopo accese discussioni che durarono un'altra due settimane, in realtà non ci fu, perché senza un accordo tra Repubblica e Longobardia, non si giunse a nessuna mediazione. La Longobardia ad un certo punto aveva anche proposto di spaccare la Burgundia, una parte si sarebbe unita alla Longobardia, quella che aveva votato a maggioranza per l'Unione, l'altra sarebbe rimasta autonoma, magari sarebbe stata inglobata dalla Repubblica stessa, ma la Repubblica, forte dell'accordo con l'Olanda, rifiutò anche questo, e alla fine si ritirò dalla conferenza, affermando che avrebbe mantenuto una parte delle sue truppe in Burgundia per evitare qualunque colpo di mano. Nei giorni successivi, il risultato di questa conferenza, a tutti gli effetti, andò a creare due vere fazioni. L'imperatore dei Rus, infatti, condannò apertamente questo risultato, parlò del fatto che la Repubblica si rifiutava di riconoscere le giuste istanze delle popolazioni, così disse, disse che le popolazioni europee erano stanche di essere dominate da stati sovranazionali e che era tempo che le nazioni, le nazionalità, rinascessero, così come dovevano fare, a suo parere, i russi, che dovevano tornare uniti sotto un unico regno, sotto un unico impero, e in risposta, decise di mettere da parte tutti gli ultimi dubbi e firmò un ufficiale ingresso all'interno del patto di Monaco, che a tutti gli effetti, smise di essere quell'alleanza, quasi a doppia coppia, che c'era stata fino a quel momento e divenne un'alleanza unica. Longobardia, tripice monarchia, Russe, con la Bulgaria alleata, diciamo, parallela. Dall'altra parte, negli stessi giorni, le Provincie Unite e la Repubblica, nonostante qualche dubbio, anzi molti dubbi da parte della popolazione, firmarono quello che passò alla storia come l'accordo cordiale, un accordo di collaborazione, ma soprattutto di difesa reciproca, con cui entrambi garantivano l'esistenza della Burgundia e si garantivano appoggio l'un l'altro qualora qualche Stato avesse, fosse in qualche modo, cercato di intervenire per porre fine all'esistenza proprio della Burgundia autonoma. In questo accordo, ovviamente, c'era anche un terzo convitato e quel terzo convitato non poteva che essere la Svezia, che non solo era sempre stata alleata con l'Olanda, ma che continuava a subire queste continue rivendicazioni da parte dei Russe, che se inizialmente erano sembrate essere principalmente rivendicazioni fatte per politica interna, iniziavano ad assumere sempre contorni sempre più preoccupanti e si temeva che in qualche modo i Russe potessero veramente rivendicare i territori che un tempo erano di Novgorod. In questa situazione così complessa, in cui peraltro la Repubblica e l'Olanda, come vedremo nella prossima puntata, avranno molti interessi extraeuropei, ma ripeto, lo vedremo nella prossima puntata, la situazione in Europa continuò a diventare sempre più complessa e sempre più accesa. Innanzitutto perché gli alleati nel patto di Monaco iniziarono un riarmo che era già stato iniziato dalla Longobardia, proseguito dai Russe, e che iniziò a spingere anche all'interno della triplice monarchia. In realtà all'interno della triplice monarchia tutti, tutta questa convinzione per un riarmo non c'era e il primo ad avere dei dubbi in tal senso era proprio Rommel che aveva sì spinto per la nascita di questa alleanza, un'alleanza che però dal suo punto di vista era nata semplicemente come contraltare alla forza repubblicana e che dal suo punto di vista sarebbe dovuta servire a mantenere la pace e non a creare una nuova guerra. Rommel aveva molti dubbi ma ora non sapeva più letteralmente come uscire da questa situazione. A cavarlo sotto un certo punto di vista di impaccio nel luglio del 1940 fu la morte perché nel luglio del 1940 Rommel venne trovato morto nel suo letto. Non era giovanissimo si sapeva che aveva dei problemi di cuore ma la morte fu molto molto improvvisa. In effetti quella morte lasciò un grosso vuoto. Tutto il sistema politico che lui aveva creato all'interno della triplice monarchia a tutti gli effetti gravitava intorno a lui. Il Parlamento era diviso in tre gruppi quello polacco quello ungherese quello boemo in perfetto equilibrio ma era sempre il suo voto la sua volontà a indicare la strada per il Parlamento. A sorpresa nelle discussioni che nacquero in regioni successivi colui che ne uscì meglio fu il sovrano Rodolfo il quale non era più giovanissimo aveva 78 anni ma che utilizzò proprio la morte di Rommel e qualcuno disse che non la utilizzò ma che la provocò anche ma questo ovviamente non lo sappiamo potrebbe essere stata una vendetta fatta per come era finita la magna guerra utilizzò con molta intelligenza la morte di Rommel per permettersi di tornare ad avere un maggior ruolo all'interno del paese la prima cosa che fece Rodolfo fu di schiamare Rommel quasi come un suo fratello al punto addirittura da indicare tre giorni di lutto per tutta la nazione in seguito alla morte del cancelliere un numero di giorni che teoricamente erano previsti solo per i membri più importanti della casa reale non per un popolano per così dire per quanto così importante in questo modo sembrò in qualche modo quasi porsi in vicinanza proprio alla volontà del vecchio cancelliere nonostante tutti sapessero benissimo che tra i due non correva buon sangue anzi Rodolfo odiasse in maniera abbastanza aperta proprio Rommel una volta fatto questo Rodolfo non solo iniziò ad intessere l'odio del vecchio cancelliere ma cercò di rientrare all'interno della politica per porre fine all'impasse che si era creato all'interno del Parlamento sarà proprio di Rodolfo la proposta di avere una presidenza un cancellierato presidenza del Parlamento che fosse fatto a rotazione tra le tre nazionalità che componevano il suo regno fu lui il primo a dire che dato che Rommel era boemo di origine il prossimo primo ministro il prossimo cancelliere sarebbe dovuto essere o ungherese o polacco e sarebbe dovuto rimanere in carica per cinque anni per poi essere succeduto da un altro cancelliere dell'altra etnia e poi di nuovo un boemo e così via a rotazione sulla carta questa decisione che sui giornali sarà venduta come la volontà del sovrano di mantenere l'unione del regno di riconoscere le altre popolazioni in realtà era un gigantesca posso passare i miei termini era una gigantesca paraculata perché Rodolfo in questo modo non solo ricompattava il paese sotto di sé ma evitava con questa rotazione che si venisse a creare un nuovo cancelliere forte un nuovo rommel perché dovendo cambiare tra le varie popolazioni i cancellieri sarebbero sempre cambiati e l'unica forte fonte unificatrice del regno sarebbe stata la sua la sua per chissà quanto tempo ripeto aveva 78 anni ben presto quella del figlio un'altra situazione interessante di cui parlare però in Europa è quella degli ebrei lo abbiamo visto negli ultimi anni soprattutto nei territori dei Rus è iniziata una vera un vero movimento antisemita ora non che nel mondo di Orbis i movimenti antisemiti non fossero mai esistiti anche se devo dire che rispetto alla nostra timeline forse per una minore influenza della chiesa chissà questo non lo sappiamo questi movimenti erano sempre stati più limitati negli ultimi anni però nei territori dei Rus i sentimenti antisemiti sono sempre più cresciuti e lo Stato in maniera sempre meno diretta sempre meno nascosta aveva iniziato ad appoggiarli tanto che nel 1939 erano state fatte abbiamo già parlato nella scorsa puntata delle leggi speciali che avevano impedito agli ebrei tutta una serie di lavori gli avevano impedito di assumere delle cariche pubbliche e a tutti gli effetti avevano iniziato una vera e propria discriminazione nel 1940 questa situazione andò ulteriormente peggiorando i figli di Maria ormai facendosi scudo anche della legge iniziarono una serie di violenze sugli ebrei che a tutti gli effetti furono costretti a scegliere tra rimanere talvolta cercando la nominato di scomparire oppure essere costretti ad emigrare una nuova legge di inizio 1940 imponeva agli ebrei che decidevano di emigrare l'abbandono sostanzialmente di quasi tutto all'interno dei territori dei Rus quella legge venne salutata sui giornali come una legge per impedire di portare fuori quello che gli ebrei avevano rubato ai Rus questo si diceva ma era a tutti gli effetti una legge che ancora una volta andava a colpire un popolo che non ne poteva nulla e che era diventato semplicemente un perfetto capo espiratorio durante il periodo di crisi ma soprattutto una perfetta copertura per il tentativo di Alessio del sovrano di stringere sempre più verso di sé le maglie del potere questo antisemitismo però come vi dicevo nella scorsa puntata si sta sempre più diffondendo in altri paesi si sta diffondendo da qualche anno nei territori di Novgorod e qua viene combattuto in realtà dagli svedesi che hanno emanato più volte leggi per proteggere la minoranza ebraica con il risultato che una parte dei cittadini di Novgorod ha quasi visto queste leggi come una prevaricazione verso di loro una mancanza di rispetto verso la loro volontà con il risultato che non solo anche qua ci sono stati degli attacchi dei pogrom senza che la polizia svedese riuscisse in nessun modo a fermarli ma addirittura inizia a esserci delle proteste proprio per la richiesta al governo svedese di emanare delle leggi che esattamente come quelle dei russi vadano a colpire proprio la popolazione ebraica tanto che anche da queste zone una parte degli ebrei ha iniziato a spostarsi qualcuno direttamente in Svezia altri addirittura invece a emigrare verso Nuova Terra altre leggi anti-ebraiche in questo momento ufficialmente non ce ne sono ce ne sono in Bulgaria dove hanno delle leggi simili a quelle dei russe ma in realtà questo movimento sta iniziando a prendere forma ci sono dei movimenti antisemiti molto forti anche all'interno della subice monarchia e molti temono che questi movimenti possano prendere abbastanza potere alle prossime votazioni per iniziare ad imporre delle leggi del genere anche in questa zona insomma tutto l'est dell'Europa inizia a essere una zona molto difficile dove vivere se si è ebrei per chiudere la questione dell'Europa volevo ancora darvi qualche notizia innanzitutto la Scozia e la Normandia la Scozia e la Normandia ne abbiamo già parlato nelle scorse puntate sono due territori molto molto poveri che però nel corso del 1940 hanno finalmente riniziato una loro crescita una crescita molto molto lenta da parte della Scozia dove la forte emigrazione verso l'Inghilterra ha in qualche modo ridotto le richieste anche alimentari per il governo di McDonald con il risultato che la Scozia proprio nel 1940 esce da quella crisi alimentare l'economia è ancora molto molto fallimentare l'industria praticamente non esiste più le politiche di McDonald fortemente accentratrici hanno devastato quello che rimane dell'industria ma se non altro la Scozia non fa più la fame e l'aumento delle razioni viene venduto dal governo McDonald come un grande successo del comunismo facendo quasi dimenticare che in realtà gli scozzesi vivevano meglio qualche anno prima sotto il sovrano in Normandia invece la situazione va decisamente meglio il comparto industriale normanno seppur duramente provato dalla magna guerra prima dalle rivolte dalla guerra civile poi in qualche modo è più saldo soprattutto maggiore la popolazione normanna con il risultato che grazie al fatto che il partito comunista aveva comunque avuto grossi appoggi da parte di una buona parte della popolazione in qualche modo il comparto industriale si sia rimesso in moto la Normandia in realtà in questo momento è sostanzialmente uno stato di polizia comunista il governo di Leon Blum che peraltro ha iniziato ad attrarre molte personalità di ideali comunisti ad esempio Hitler famoso pittore Adolf Hitler in questa timeline proprio nel 1940 si sposta a vivere a Lutezia appoggiando dichiaratamente proprio il governo di Leon Blum e continuando a spingere per l'ideale di rivoluzione nella sua idea che dovrebbe diffondersi in tutta Europa ebbene la Normandia in qualche modo sorpresa nel 1940 riesce pian pianino a reingranare la politica di Leon Blum sulla carta molto vicina a quella di Trotskidis in realtà dal punto di vista economico è molto più variegata quasi più vicina a quella di Atli in Inghilterra viene lasciata una certa libertà locale dove i vari consigli di fabbrica riescono a integrare quella che è la volontà centrale anche qua vengono varati ovviamente dei piani quinquennali con le necessità locali questo perché quei consigli di fabbrica soprattutto nella parte occidentale del paese esistevano già da parecchi anni avevano guidato la rivolta e quindi avevano tutte le possibilità di mantenere intatto il loro potere il governo di Blum ripeto che ufficialmente si schiera economicamente dal lato dei Trotskidis quindi dell'economia strettamente centralizzata in realtà poi sul suo territorio appunto assume un'idea mista nonostante questo dalla Grecia nessuno si oppone a questa volontà perché ovviamente persa l'Inghilterra la Normandia è diventata il principale alleato della Grecia di Trotskidis prima di passare all'Africa volevo darvi altre due piccole notizie la prima è di stampo puramente fumettistico nel 1940 nella nella Repubblica inizia ad essere pubblicato quello che passerà alla storia come il primo fumetto supereroistico di Orbis che mostra un uomo di una forza incredibile che viene chiamato Uber Vir con una grande U sul petto questo Uber Vir sembra in grado di risolvere qualunque problema viene chiamato il primo eroe latino anche se in realtà all'interno della trama non era un vero e proprio eroe latino ma in realtà il figlio di un antico dio si dice viene detto un figlio di Giove che dopo aver dormito per parecchi millenni in una specie di stasi temporale sarebbe uscito proprio in questo 1940 a salvare la Repubblica da tutta una serie di minacce inutile dire che alcune di quelle minacce sono dichiaratamente anche se vengono mostrati come appunto dei super cattivi sono palesemente delle immagini degli stati che in quel momento sono in opposizione proprio con la Repubblica ad ogni modo con Ubervier nasce il primo fumetto supereroistico della Repubblica la seconda notizia che vi do è che dopo qualche piccolo spunto che avevo già dato proprio nel 1940 in vari laboratori in giro per il mondo non vi dico dove dovete ovviamente deciderlo voi tutti insieme in vari laboratori in giro per il mondo alcuni scienziati in progetti paralleli e molto spesso segreti che non condividono le informazioni fra di loro hanno iniziato ufficialmente a lavorare sull'utilizzo dell'energia atomica per farne delle armi chissà chi dovesse raggiungere per primo quest'arma e chissà se mai serviranno ad ogni modo mettiamo da parte l'Europa e spostiamoci in Africa perché anche sull'Africa c'è qualcosa da dire l'Africa la vedete nella cartina a fianco è un'Africa che ormai è in una situazione sempre più complessa perché non solo ci sono le colonie che ormai praticamente sono quasi solo più quelli olandesi e quelle repubblicane con gli svedesi gli irlandesi che hanno qualche territorio ma sono anche in questo momento degli stati pressoché autonomi e quegli stati pressoché autonomi sono il Congo e il Sudafrica ora sul Congo non c'è in realtà tantissimo da dire il sovrano scozzese infatti si è trasferito in questa zona Alberto peraltro non era più giovanissimo e proprio nel 1940 muore lasciando il trono al figlio in realtà però il trono della Scozia in questa zona è abbastanza stabile si dice che i sovrani scozzesi siano molto duri con il loro popolo di colore con i loro sudditi di colore così vengono chiamati non dico che in Congo esista ancora la schiavitù ma sicuramente le condizioni di vita non sono delle migliori e quel tentativo di migliorare la situazione che era stato fatto dal governo scozzese dal Parlamento scozzese ovviamente con la caduta della Scozia il passaggio in mani comuniste è stato completamente abbandonato e i sovrani scozzesi governano nuovamente il Congo praticamente come un loro feudo personale reggendosi su una piccola minoranza scozzese che è alle loro dipendenze in realtà però oltre alla Scozia e a Sudafrica ci sono anche altri due stati che sono in una situazione particolare che sono i cosiddetti codomigni quelli che un tempo erano colonie in gran parte inglesi in parte normanne che sono diventate dopo questi due stati sono diventati comunisti degli stati pseudo autonomi protetti dalla Repubblica dall'Olanda e dalla Svezia cioè il codominio del Mali e il codominio del Centrafica in queste due zone in realtà la situazione politica non è facilissima all'interno del territorio del Mali coesiste infatti una forte minoranza anzi quasi maggioranza inglese che dopo tutti questi passaggi vorrebbe spingere per una maggiore autonomia della colonia che magari raggiungesse uno stato di autonomia completa come quella del Sudafrica e che potesse essere guidata proprio dalla maggioranza inglese una cosa a cui si oppone la minoranza normanna ovviamente con l'appoggio delle Provincie Unite e della Repubblica in realtà però all'interno di entrambi gli stati esistono comunque dei movimenti che richiedono una maggiore autonomia che sono molto avvantaggiati dal fatto che in realtà in questo momento né la Repubblica né soprattutto le Provincie Unite hanno grosse possibilità di intervento diretto della zona e quindi non supportando le fazioni che mantengono questo codominio tra virgolette a tutti gli effetti ne indeboliscono la posizione se questo sarà l'inizio di una campagna di liberazione per l'Africa che cercherà di tornare autonoma ovviamente dobbiamo deciderlo insieme di certo in Sudafrica un movimento di questo genere esiste già ed è il cosiddetto congresso africano nel 1940 infatti viene fondato proprio in Sudafrica il congresso sudafricano che è un partito politico chiamiamolo così un movimento di pensiero che propugna l'idea che l'Africa debba progressivamente liberarsi debbano nascere vari stati affrancarsi dal dominio europeo e in qualche modo portare l'Africa ad una rinascita il problema è che questo congresso africano in realtà considera la rinascita non fatta dalla maggioranza di coloro che vivono in Africa cioè le popolazioni di colore ma guidata dalle popolazioni bianche dai coloni bianchi che dovrebbero esattamente come sta avvenendo in Sudafrica mantenere una forma di apartheid di controllo sui territori che permetta loro di prendere controllo di quelle nazioni semplicemente affrancandosi dal dominio europeo il congresso africano in realtà vorrebbe sì un'Africa libera dall'Europa ma in cui i coloni europei che provengono dall'Europa possono ancora dominare sulle popolazioni di colore e vedono molto col fumo negli occhi il dominio coloniale soprattutto quello degli olandesi che non essendo molto numerosi hanno iniziato ad affidare alcune posizioni di prestigio e di comando anche a persone di colore cosa che ovviamente in Sudafrica non è per niente per niente permesso e soprattutto per niente tollerato dalla minoranza bianca ma anche qua vedremo come andrà bene io mi fermo qua direi che vi ho messo tanto carne al fuoco prima di espandere tantissimi i vostri pensieri aspettate la puntata della prossima settimana di domenica prossima che aggiungerà ve lo assicuro già molta carne al fuoco per quanto riguarda le Americhe e l'Asia tenete presente che come vi dicevo non abbiamo detto tutto né per quanto riguarda i russi né per quanto riguarda soprattutto la Repubblica e le Provincie Unite riparleremo di loro nella prossima puntata quindi aspettate quegli agganci ma se avete già qualche idea da darmi su quello che sta avvenendo in Europa che vi ho raccontato in Africa datemela perché come sempre questa storia va avanti grazie ai vostri consigli io vi fermo qua ringrazio ancora tutti voi ringrazio ragazzi della wiki per tutto il lavoro che fanno vi dico che se volete recuperare tutta questa lunga cronia in descrizione trovate la playlist e per il resto come sempre io vi ricordo di essere curiosi perché la storia del mondo là fuori è piena di avvenimenti e storie fantastiche storie incredibili che nessuno scrittore nessun registro a me la fantasia di mettere nelle loro opere e se volete iniziare a curiosare qui a fianco c'è l'elenco delle pidole uscite fino adesso noi ci vediamo presto con una nuova pidola di storia a presto ciao ciao